prima di passare al video di questa splendida moto ricordati di iscriverti al canale attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornato sulle nostre ultime novità scopri no scrivi cosa ne pensi della moto nei commenti e non dimenticare di condividere il video con gli altri appassionati se vuoi scoprire ogni dettaglio della moto entra sul nostro sito apri l'annuncio e compila il form di contatto allora vuoi ricevere l'omaggio che abbiamo già pronto per te non perdere tempo contattaci tramite email oppure chiamaci direttamente per riceverlo subito ti aspettiamo il tuo omaggio è già pronto per te prenota subito il tuo appuntamento e te lo consegneremo noi direttamente moto argento amore passione dedizione sono i nostri valori sempre grazie grazie